La società TLC ha svolto un ruolo strategico nel nostro territorio. Qual è l'appello che rivolge ai comuni? L'appello che rivolgo ai comuni è, in questa fase importante di scelte, di guardare con attenzione la società. Perché è una società, come dicevo, che non è costata nulla, ha portato un grosso aiuto al Polesine per cercare di ridurre l'ivario digitale. Oggi ha stretto rapporti con le più grosse società nazionali, sia pubbliche che private, in telecomunicazioni. Siamo partner con un grosso operatore che è Irideos e abbiamo negli anni aiutato le pubbliche amministrazioni che hanno chiesto aiuto per gestire al meglio questo tipo di servizio che veniva poi offerto. Abbiamo investito quest'anno, stanno per iniziare i lavori, di potenziamento dell'infrastruttura nostra che andrà ad aumentare la copertura e quindi una società che ha 1.370.000 euro di capitale interamente versato, che ha 1.700.000 euro di patrimonio, che non è costata niente, che ha riversato il territorio pagando le pubbliche amministrazioni, le società, cosa che in futuro non sarà più in grado di poterlo fare. Oltre 2.000.000 euro, credo che un po' di riflessione prima di assumere decisioni non proprio a favore del territorio sia opportuno farlo. Quali sono i vostri obiettivi per il futuro? I obiettivi per il futuro sono quelli di potenziare la società, creare le condizioni finché la società sia più libera di muoversi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, quindi affrontare anche un ragionamento di fusione con S2 perché mi pare la società più vicina alle finalità della società TLC e soprattutto fare in modo che Ipolesne possa avere e una richiesta, e una proposta di copertura del territorio che vada a coprire tutto il territorio perché noi sappiamo che le pubbliche, che le società che operano nel settore vanno laddove c'è del guadagno. Dove non c'è del guadagno, sto parlando delle zone di campagna, sto parlando delle zone più limitrofe, probabilmente quegli investimenti non arriveranno oppure arriveranno tardissimo. Quindi questa società può essere utilizzata al meglio per raggiungere questi obiettivi, quindi andare laddove gli altri non arriveranno. Grazie mille. Prego, grazie a voi.